Simone, alla fine è arrivato il quattordicesimo gol stagionale qui a Recanati. Sì, sì, sono molto contento, ma ancora di più per la prestazione della squadra, per questi tre punti che ci servivano. Guardiamo anche l'azione, ancora una volta un cross, poi torre e alla fine la tua zampata. Sì, sì, ero appostato lì sul secondo palo, speravo nella torre, è stato bravo Gigi a metterla lì, quindi sono molto contento. Quanto ti mancava il gol? Per un attaccante manca sempre domenica dopo domenica, però come ripeto, sono contento e soddisfatto della prestazione che abbiamo fatto, perché non era facile venire qui. Invece dall'inizio alla fine abbiamo imposto il nostro gioco e meritato i tre punti. Ecco, nel complesso non avete praticamente sofferto, a parte un palo concesso agli avversari. Sì, purtroppo ci sta, però insomma in 90 minuti concedere un tiro in porta, poi chiaro è andata bene, però siamo sempre rimasti sul pezzo, abbiamo sempre spinto, imposto il nostro gioco. E quindi è meritata. Prossimo appuntamento sabato contro il Lesiena. Un altro impegno molto difficile, con una squadra comunque impegnativa, però noi la Reggiana lasciamo fare il suo campionato, noi pensiamo al nostro domenica dopo domenica. Ecco, come obiettivo personale potrebbe esserci lo scettro di capocannoniere del Girone da qui a fine stagione? Ma sì, però è un obiettivo secondario, quello sì è chiaro, però quello mi interessa relativamente, importante è un altro.